Allora, questo è un videogioco, da cui hanno rotto un film, dove ci sono dei zombie, delle quelle, eh, sì, ci sono, io sono, diciamo che quando la parola è l'opera del poesco, ma il piano è la più vasta operazione del mondo che sta spettacissima, ci siamo maggiorati, a vero, no ti stai adesitando la casa, su, guarda, 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 guarda. Come ho capito di iscriversi? Dele estremotile, abbiamo, una bella coppola, per poesco, e forse avremo qualcun altro, ma non so, non vediamo l'attimo. Un applauso per questo dato, tre estremotile. Grazie Scusa, ma i zombie? C'è un zombie, c'hai? Senza zombie Sì, ma senza zombie, sei disoccupato, lo sai? No Ah ecco, l'appertante che... Allora... Sono sempre qua e la nuova Se gentilmente si avvicinano i due Spider-Man Spider-Man è normale, Spider-Man è nero Sono Matteo e Mattia Andiamo a casa musicale adesso Siamo pronti? Facciamo un applauso agli due Spider-Man, grazie 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 Grazie. Il prossimo è Damiana S e Miriam. Grazie a tutti. Ma guarda il vostro amore. Spiegate un attimo proprio i vostri. Comprate, fatte voi. Io mi senti fatto io. Allora, fatto io. Sì, diciamo così. Tu e io e io. Vabbè. Allora, questo è un altro punto più. Giusto? Allora, vabbè. Un pezzettino, non c'è lo stesso. Allora, io vorrei chiedere al pubblico. Vedete il costume? Mi sembra, da che mi ricordo il film, fatto bene. Questo ragazzo ha fatto il costume tutto da solo. Tanto deputenti, mi ha detto. Io penso... Un applauso, glielo vogliamo fare. Dai! Allora, non amo fare il suo spazio. Grazie a tutti e due. Quanto mi ha messo... Tanto, mi ha messo pure tanto. Quindi, insomma... Grazie a tutti e due. Essere... Vivian... E Luca. Non lo so, no? Mamma mia! Vivere! E io per lei... Noi danno appunti a Yuki Cross e due sulle lezze... Da Reigness. Comunque, eh... Anche questo è un anime. Vedete? Eh... È un anime. Manga... C'era... Giopponese... Bumper Night. Eh... C'è stato bravo. Adesso... Questa è la frequenza. Eh... Senti, ma... Mi sa che il mio caso... No... Siamo pronti... Tecnici... Ok, un applauso a queste quattro ragazze! Grazie! Grazie tanto! Grazie! No! Hello! Oh! Yes, yes, yes.. The house! Yes, yes, yes! The house! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.